Il governo rassicura. La popolazione è qui a livello nazionale di oltre 400.000 soggetti, 60.000 dei quali scritti ai libri genealogici. Questa è dimostrazione che l'IPICA c'è, esiste ed è un settore che comunque dà profitti e dà proventi agli allevatori. Ovviamente bisogna ristrutturare con un piano industriale tutto quello che è il comparto poi del recorso, degli ipodromi, puntando alle economie di scala e alla razionalizzazione. 25 milioni